Io non lo volevo il cancro, ci ho messo dei mesi a trasformare questa domanda dal perché proprio a me al perché non a me, ci ho messo dei mesi di introspezione, di dolore, di sofferenza, però tu lo sai, io non voglio che la gente provi pena per me, io non piango in pubblico, piango con i miei amici, perché momenti difficili ce ne sono stati tanti, però non bisogna mollare. Il Signore non è crudele, non ci vuole vedere soffrire, io ci credo in Dio e penso che non sia cattivo, questa è la mia sfida, il Signore mi ha dato una sfida che io posso magari non vincere, ma l'importante è mettercela tutta, combattere sempre. Il Signore non è cattivo, lo ripeto, non ci vuole vedere soffrire, non è così. Ci stimola per farci imparare, per farci migliorare, essere delle persone migliori.